Cappuccetto rosso Un giorno, la mamma le chiese di andare a trovare la nonna, che abitava da sola al di là del bosco e che si era ammalata. Preparò un cestino con delle focaccine e una bottiglia di latte fresco. E raccomandò più volte alla bambina di non fermarsi a parlare con nessuno lungo il sentiero. Cappuccetto rosso voleva molto bene alla nonna ed era felice di andare a farle visita. Uscì di casa con il cestino in mano e cantando e saltellando si inoltrò allegramente nel bosco. Dopo qualche minuto di cammino, quando gli alberi diventavano sempre più fitti e la luce faticava a farsi spazio fra i rami, Cappuccetto rosso scorse dietro un cespuglio due occhi grandi e scintillanti che la fissavano. Erano gli occhi astuti del lupo, che incuriosito la stava seguendo già da un po'. Il lupo la salutò con voce cupa e le chiese Piccolina, dove stai andando tutta sola nella foresta? Cappuccetto rosso si dimenticò all'istante dell'avvertimento della mamma e gli rispose Sto andando a trovare la nonna, che abita da sola, al di là del bosco. Il lupo pensò che la bambina fosse di certo un tenero bocconcino, ma che se avesse giocato d'astuzia avrebbe potuto mangiare anche la nonna. Le propose allora di fare una gara. Vediamo chi tra noi due arriva prima alla casa della nonna. Il lupo, che conosceva bene il bosco, si avviò a tutta velocità per il sentiero più breve, mentre Cappuccetto rosso proseguì con calma lungo la strada, fermandosi anche a raccogliere dei fiori. Quando il lupo cattivo giunse alla casetta della nonna, bussò piano e, imitando la vocina di Cappuccetto rosso, si fece aprire la porta. Appena la vecchina scostò l'uscio, il lupo balzò in casa e la mangiò in un sol boccone. Poi indossò la sua camicia da notte, la cuffietta, gli occhiali, prese un libro e si filò a letto ad aspettare l'arrivo della bambina. Quando Cappuccetto rosso arrivò, si meravigliò che la porta fosse già aperta. Corsa ad abbracciare la nonna ed esclamò con stupore. Oh nonna, che orecchie grandi che hai! E il lupo, travestito da nonna, le rispose. Per ascoltarti meglio. Allora la bimba si avvicinò e disse. Oh nonna, che orecchie grandi che hai! E il lupo replicò. Per vederti meglio. Infine la bambina riprese. Oh nonna, che bocca grande che hai! E il lupo esclamò. Per mangiarti meglio! E balzando dal letto, divorò tutta intera la povera Cappuccetto rosso. Il lupo, finalmente sazio, si rimise al letto e iniziò a russare rumorosamente. All'improvviso un cacciatore, che era molto amico della nonna, passando di lì sentì tutto quel fracasso e si insospettì. Com'è russa forte la vecchina! Devo controllare che non stia male! Pensò. Entrò quindi nella camera da letto e vide il lupo che dormiva profondamente. Gli puntò contro il suo fucile, ma capì che, se la bestia cattiva aveva mangiato la nonna, c'era ancora una speranza. Aprì quindi la pancia del lupo e, con grande stupore, ne vide uscire con un balzo sia la vecchina che la sua nipotina. Cappuccetto rosso e la nonna, scampato il pericolo, si abbracciarono e fecero una grande festa, mangiando il latte e le focaccine del cestino. Cappuccetto rosso aveva imparato la lezione. Non avrebbe mai più disobbedito alla mamma. Non avrebbe mai più disobbedito alla mamma.